... Rinunciare completamente e totalmente a gestione di presenza che per legge è previsto ai consiglieri comunali. Questi sono ragazzi che non stanno cercando nell'istituzione, nella politica un imposto per sistemarsi, non stanno cercando una comoda coltrona. Questi sono ragazzi che hanno già dato la disponibilità disinteressata a fare politica e per la collettività. Questi ragazzi hanno già dato, hanno già dichiarato, apertamente lo fanno ora con la presenza sul palco qui con me, di rinunciare completamente e totalmente a gestione di presenza che per legge è previsto ai consiglieri comunali. Rinunciare completamente e totalmente a gestione di presenza che per legge è previsto ai consiglieri comunali. hanno già dato la loro disponibilità a fare la loro parola e la confermano qui con me. È una coccia nel mare, però è contemporaneamente un segno concreto di disponibilità e disinteresse. Un segno che noi vogliamo cambiare il modo di fare politica, che non abbiamo interesse a prendere qualcosa da... Grazie a tutti. Grazie a tutti.